Quando i gommi ballò, no? Tu facciuti una resistenza, non puoi. Non puoi mangiare tutto, faccia vedere. Ah, io? No, io non puoi mai scusare, non puoi. Io ne ho dei sigaretti, certo bevi. Si sarebbe tutto con me, io ti bacino, ti arrivi in serra. Ora fanno l'amore. Ai signori, buongiorno e ben trovati a tutti. Pure quando sto in carcere faccio fare la prima tessera mia. Si può fare in gada al carcere? Si, esco e trasso. Esco e poi pago. C'è stato lo spogliarello di Emilio davanti alla villa col Fogginzere B. Si, ma ne dite. Lo so. Confermi Emilio. Si, questo è bene. Nell'ambito degli amici, perché no? È il massimo della vita. Veramente un tifoso, come si deve? La figa è tente, eh. Come commenta l'intervento di Emilio Cavelli? Com'è? Com'è? Ma che dici? Quella è che tu faccio. Che vedi? Come faccio un bacio di buccia? La pulizia, l'igiene della persona è importante. Ah, quella è la prima cosa. Ma questo dolore qua non mi posso lavare giù. È come un buccia l'acqua. Un brucio. Ma il giorno 21 non mi lavavo il giospetto. Mi hanno fatto il neurologo. Ti lavavo ogni volta che hai una visita? Mi ha detto, tagliatele qua. Che voglio tagliare? Mi ha sempre visto queste cose. Mi prendi la medicina. Non mi faccio niente. Lascio aperto. Voglio campare così. Senza la medicina, come viene viene? Come viene viene, frega me. Mi faccio bene, ma non posso fare niente. Gli passi di vuoto. Ma capito che a me? No, fumo. Vogliamo fumo con i polmoni? Sto fumo si appicciano di più. Per dirti, capito? Per dirti. Quando ero stato in Germania nel 72. Mi è passato una visita a Verona. Da Capopete. Se no non ti facciano passare. Meno male che non avevi il fuoco di Sant'Antonio. Mamma mia. Io ho compagni miei. Ho compagni miei hanno dato l'albumino. Puglio scartato. Ah, dite. Che cosa mi fa qua? Faccio luce. Ma sai cosa mi fa? L'albumino lo posso tirare a farci. La bottiglia. Dove è una bottiglia? Io ho urinato al posto del suo amico. Oh. Ma non si fa però, non si fa. Ma se stavo? Mi ha fatto. Mi è passato. Voi c'era un compagno mio. Per il telefono. Mamma. Il trucco è riuscito. Il trucco ci hai fatto. E' venuto in Germania per colpa mia qui. Ma va a te. Mi piace. Come comunicava con i tedeschi? Ah, ah, ah. No, non parlavo proprio. Perché non sapevo. Ah, parlo da tedesco. Ci fattava quegli elementi qui. Ah, 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 ah. Capite? Una storia triste. Una storia triste. Capite? Poi c'era prima in Francia. A Orleans. Nostro c'era stato di Giovanatar. Giovanatar. In Francia riusciva a parlare in francese oppure? No, però non parlavamo. Quindi ha trascorso degli anni in silenzio, signor. Vede buona. Che fa? Ehi! Qual è il piatto preferito del signor Pino? Che è? Il basket segnato lì. Ma sono voluti a cucinare? Eh. Facciamo la segnofone, i orecchietelli, i trucchi. Ma domenica veniva a chiedere a mangiare. Nonna, fai i trucchi? Vabbè, tu i trucchi e io le orecchiette. Mi chiede. Mi chiede. Ma tu per uscire anche te. Tornassi indietro, si sposerebbe di nuovo? La legge che ci siamo. Sono tutte le mie compagni. Tutti i compagni di te. Mi chiede. Signor Pino è andato in viaggio di nozze. Una giornata. Abbassi. Gli fatti termoli vasto. Una giornata. Una crociera sull'Adriatico. Abbiamo venuto a San Circo. Abbiamo venuto un po' di palle. Abbiamo venuto un po' di palle. Abbiamo venuto un carabinino di Cupsic. Cupsic? Un carabinino di Barresa. Cupsic. E noi con noi parliamo. Facciamo un casino. Abbiamo venuto un carabinino. Abbiamo venuto un po' di palle. 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 Facciamo un po' di palle. E i cuni, vedi, vedi. Quindi niente cani in casa? No, no, lasciala qui. L'aggimento è bruciato. Se fanno le cose... Le carrette che mettono là? La droga, la droga? La droga, quella. Lei non l'ha mai provato? No. Ma per piacere. Che cazzo ti dici? Che non si è facciuta? Un saluto a Borghetti Neuro. Ah, Borghetti Neuro. Buongiorno. Ora non c'erano il telefoggio. Allora, mamma mia. Ma che mi vedono? E che fanno i giovani quando buono la bimba? All'assinante. Ti chiedevo strammuttitato nel dolbo da una madre. Se Gesù Cristo veramente... Non mi colpeva, non mi sto facendo tanto... E cos'è no? E cos'è no? E cos'è no? E cos'è no? Ma cazzo è malvosto che... Ma ha fatto meno. Non cazzo si fa una barrella, ma mi sento... Ehm... 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 Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Conosci il signor Pino? Signor Pino conosce i miei? L'ho conosciuto quando è Zemanna, ha dettoci una Zemanna Io morirò solo quando voglio andare in sedia Beato Beato A chi, a chi, a chi, a chi A chi A chi A chi